musica effettivo eh niente vi inizio a parlare un po' del perché di questo video dato che era un video inaspettato un video così fatto di sorpresa cioè nessuno lo voleva cioè diciamolo ed yes perché hai fatto questo video? eh perché se ci sono dei momenti in cui sto zitto è perché sto giocando e nel frattempo sto parlando quindi è molto molto difficile eh comunque perché ho fatto questo video? perché allora praticamente ho aperto il nuovo canale come voi i 2050 iscritti quasi i 2100 iscritti sapete voglio ringraziarvi anche un pochettino per chi mi avete seguito non mi aspettavo di ricevere in quante sono stati? due giorni che ho aperto il nuovo canale tre giorni tutti questi iscritti così già attivi anche il video che ho messo di The 4 Dead ho ricevuto tanti bel mi piace e tante visualizzazioni prego prego ciò mi come dire mi gratifica perché era quello che volevo alla fine non perdere i cioè le persone che mi seguivano coloro che mettevano mi piace ai miei video e così via perché ancora mi mi chiede domande mi chiede eeeh rifacciamo perché la gente mi chiede se si è aperto il nuovo canale ancora nessuno qualcuno riesce a capire perché nel vecchione canale avevo un avviso copyright non avevo l'upload infinito quello dei 15 minuti sbloccabile che è ricordo ricordo a tutti che è sbloccabile l'upload a 15 minuti non è che ve lo da youtube si sblocca mettete il vostro numero di cellulare e si sblocca vero si perfetto non lo sapevo eh vabbè tu sei idiota grazie praticamente l'ho sbloccato così potranno arrivare anche i video più lunghi tipo se questa partita durerà 40 minuti io la caricherò tutta no non è vero in quel caso vado sul file registrato premo cance e invio ecco bastardo ecco eeeh non l'avevo fatto mai in video su call of duty si vabbè quello dei trickshot nel vero canale eeeh qualche 1v1 no mai no mai 1v1 non è tutto questo ti conto parvi a quanto si è scarso ma quel verso pc sono scarsissima con lo sniper c'è poco da fare e io invece su lui invece domina al contrario si c'è stato scarso il su pc domina invece al contrario vabbè misto guarda il bastardo ecco guarda vabbè a me piace eeeh oddio ok si però non fare il figo con tutti i trickshottoni eh c'è il bello che ho fatto sto cosa non mi è riuscito mi sono fermato ucciso basta tipo ah che brutto non saper mirare dopo tipo parla anche un po' del aspetta ma aspetta stai zitto ma sto venendo la killcam non ho tanto capire che cazzo hai fatto vabbè vai a cagare che cazzo stai dicendo parla un po' dei tuoi progetti della serie per esempio di minecraft la nostra bellissima serie di minecraft per la gioia di tutti che sta andando stava andando nel primo canale in modo perfetto e spero andrà anche nel secondo dato che a voi vi piace minecraft aspetta almeno a noi ci a molta gente a noi a tutti al mondo piace minecraft ciao si arriverà anche su questo canale lunedì ovviamente il terzo episodio non perdetevelo perché è qualcosa di epico forse parlando sempre di minecraft e di episodi che arriveranno non arriverà alle due come arriverà solitamente ma forse arriverà verso le cinque del pomeriggio perché io prima appavo da scuola e mi sa che adesso non posso più farlo perché boh ti pari arriva al 60% di caricamento e mi dice errore di comunicazione col server e quindi tu andare andando a scuola anziché studiare si no ma perché ti spiego nella mia scuola praticamente dato che è un elettronico facciamo molte ore di informatica stando nell'aula pc poi praticamente stando lì cioè stiamo ti dico solo che il lunedì figata ammazza dopo farlo ok il lunedì usiamo i pc circa 4 ore su 6 il mercoledì il giovedì lo utilizziamo 5 ore su 6 si cioè tutti quindi tu esatto infatti io pavo il lunedì e il giovedì ma adesso mi sa che non lo posso più fare perché giustamente si è youtube incacchiato verso la mia scuola e mi da sto problema col server brutto bastardo youtube di me quindi è un buon pretesto per studiare no non è un buon pretesto è un buon pretesto per caricare i video da casa non facendo un cazzo perché a fare 600 mega da casa è straziante lì a scuola l'upload da un megabyte porca puttana e invece a casa sei povero infatti 040 per caricare un video devo andarci io con i criceti praticamente con la connessione con la ruota esatto ok però ne vogliamo parlare che me la sto prendendo in quel posto lì puoi dirlo nel culo te la stai prendendo nel culo subito ora poi ti chiudono il canale buon chiuso viso parolacce e basta sei perdita non c'è un avviso copyright per quello che io sappia almeno piuttosto tu dovresti dire nel tuo canale segnale disturbato sì io ho cambiato canale bastardo dato che io ti ho fatto crash no non è vero ossetto ancora devo fare il nuovo video dammi il tempo ah fai il nuovo video così diventi partner effettivo lol sì esatto eh ho sì vabbè ok ora tu tipo ti metti là e io ti uccido non è vero non si mette là oddio 360 oh my god oddio vabbè mi hai fatto che dio oddio madonna dio a primo colpo c'è tipo questa rape oh che bello eh comunque sia il video ragazzi è finito spero vi sia piaciuto The Jumpy Tech è tutto ciao